Salve a tutti, sono Pietro, Pietro Retro e sono qui diciamo a retrodire che retrogrammando questo programma che sta uscendo che si chiama Dietro Retro, il retro di Pietro, Pietro al retro, quindi è un programma abbastanza arretrato, però a noi retro piace, Pietro Retro è sempre tratto del Trotra e quindi mangiamo le trote e arretriamo tutti mangiando le trote.